A 26 anni dalla prematura scomparsa di Bruno Beatrice, stroncato da una leucemia, la città di Arezzo ricorda il mastino della Fiorentina, campione in campo e nella vita e che con i viola aveva vinto la Coppa Italia nel 1975. Un'occasione per riflettere sui valori dello sport e sul doping, l'ombra che ha accompagnato la morte di Bruno e di tanti suoi compagni. Speriamo di fare un'ottima commemorazione che non sarà soltanto calcio giocato ma anche una tavola rotonda di domenica mattina dalle ore 10, una mostra fotografica e tratti di vita in un video di Bruno Beatrice dove dovremo approfondire alcune tematiche relative allo sport e all'uso di sostanze nocive alla salute degli atleti. La manifestazione prevede una mostra video e fotografica che ripercorre la carriera di Bruno Beatrice nella parte della tribuna coperta dello stadio. A fianco di tavole rotonde e incontri pubblici ci sarà anche un torneo a cui prenderanno parte molte delle vecchie glorie della Fiorentina e compagni di squadra di Bruno Beatrice. Ci dà la possibilità di avere un momento di discussione che è il doping nel settore sportivo, è un momento particolare perché ci fa ricordare un amico scomparso Bruno Beatrice e la sua famiglia che è stata così brava a portare avanti questo discorso di voler mettere su un memorial con un fine così importante. Grazie a tutti.